Grazie a tutti. Grazie per ringraziare il professor Giampiero Neri che con la sua grande maestria, che gli riconosciamo da tanto tempo, ha organizzato questo evento così straordinario e mi ha tenuto in considerazione, quindi grazie di cuore per questo. Anche perché, essendo noi amici di lunga data, mi ricordo i primi passi del Cenacolo quando in maniera molto artigianale aveva iniziato ed era mosso soltanto dalla passione. E grazie alla passione che ha continuato a approfondere in questa iniziativa adesso è riuscito a analizzare questo secondo importante congresso nazionale e sicuramente ne seguiranno altri. Quindi complimenti per quello che hai fatto in questi anni. Io devo dire che quando Giampiero mi ha affidato il titolo mi sono un po' chiesto che cosa avrei potuto dire. E poi tra l'altro essendo in un consesso di otorino e vestibologi direi che la risposta è sì e potrei concludere qui la mia relazione. Ho cercato un pochettino di dare qualche spunto ovviamente per non essere così sintetico nell'esposizione. E quindi incominciamo a vedere rapidamente molte delle cose che dirò ovviamente sono state già toccate e espresse in maniera molto migliore di quello che farò io da chi mi ha preceduto. Rapidamente appunto questa è la fisiologia la possiamo saltare poi tra l'altro avremo tutta una serie di aspetti importanti così come come giustamente ha detto il professor Neri le cose cambiano con l'età il sistema vestibolare cambia e quindi questo è un aspetto importante. Io credo che sia importante sottolineare un aspetto che quando andiamo in letteratura, quando andiamo nella pratica clinica, quando andiamo a scrivere in cartella spesso vertigine un termine mal definito. Questo è un aspetto importante che ci crea a volte problemi nella definizione del paziente quindi aspetti assistenziali e ci crea a volte problematiche anche di tipo scientifico perché se andiamo in letteratura troviamo, vedete, un tipo di nosografia molto molto variegata e a volte è anche difficile poter fare poi una meta-analisi o un confronto importante dal punto di vista scientifico sui vari lavori perché ovviamente ci sono aspetti non perfettamente omogenei da questo punto di vista. Ecco questo è uno degli altri studi, ce ne sono tanti, ne abbiamo già detto, è stato detto prima di me appunto quanti aspetti di studi epidemiologici e quanto siano le percentuali nelle varie popolazioni studiate quindi non mi soffermo, la cosa importante è ricordare che è un problema pediatrico assolutamente rilevante, questo è il messaggio diciamo così in linea con quanto già detto da chi mi ha preceduto. Ecco, questo era importante perché di nuovo, anche questo è un concetto già detto ma non potevo non riportarlo, la problematica dell'emicrania e la vertigine parossistica rimangono i due aspetti fondamentali nell'età pediarica e anche io cercando di non ripetere troppo mi soffermo su questi due aspetti. Ecco, un aspetto che forse può essere interessante e di taglio pratico è visto che tanti tipi di vertigine esistono in età pediatrica cercare di identificare un po' le cause più frequenti se le dividiamo per fasce di età e questo mi sembrava un aspetto così velocemente per carità su cui stare qualche minuto per sottolineare come certe problematiche sono più squisitamente pertinenti di determinate fasce di età e come vedete appunto il problema psicologico che poi è un po' trasversale, i problemi vestibolari vedete tipo neuriti eccetera incominciano più tardivamente, ci possono essere problematiche importanti anche di altri organi apparati eccetera eccetera ecco la menier la vediamo più avanti però ecco questo forse può essere uno studio che ci dà un'idea di questa progressività e cambiamento col passare del tempo e ancora una volta ribadiamo come dal punto di vista della percentuale in termini assoluti quindi come totalità vedete qui in totalità dei disturbi ritrovati questa è in ordine di possibilità statistica quello che troviamo più frequentemente ecco qui è riportato invece la parte eziologica questo è un aspetto interessante vedete che le eziologie su cui si è già detto qualcosa ma ci sono degli aspetti importanti dal punto di vista pratico bisognerà tornare perché le forme eziologiche sono molto frequenti ma sono appunto come già stato detto a volte rare per esempio le forme di disturbi vedete della confistola arterovenosa per i midullare spinale quindi situazioni sicuramente rare che però come è stato giustamente detto prima di me bisogna incominciare a cercarle oggi nessuno perdona un errore medico nessuno perdona una superficiale valutazione del paziente quindi bisogna stare molto attenti a cose anche rare ovviamente le vertigini possono essere definite in periferica centrale e pseudo vertigini quindi le problematiche come già stato giustamente detto di tipo psicologico e qui cito di nuovo anche io il lavoro di Ian che è già stato citato perché le divide questo è un lavoro a mio avviso molto utile oltre che essere molto recente perché li divide in centrali e periferiche e riporta le varie forme e le varie terapie in atto quindi questo è un lavoro che suggerisco di andare a vedere ma insomma possiamo rapidamente sorvolare su questo ecco il professor Ballottini ha già parlato sprendidamente di questo argomento quindi non mi fermo più di tanto anch'io ovviamente faccio riferimento alla terza versione delle day classification perché è quella più recente pubblicato su Cefalagia nel 2013 questi sono gli aspetti che si associano alla vertigine parossidistica benigna questi sono i criteri mi perdonatemi ma purtroppo questi sono i punti di riferimento d'altra parte almeno se non altro c'è accordo tra le varie persone che parlano che non è sempre così e quindi la diagnosi differenziale che è importante ecco questo giusto forse un piccolo accenno a questi aspetti molte delle situazioni che dobbiamo considerare in diagnostica differenziale sono patologie importanti a parte appunto l'emicrania ma il post trauma, anomalia cerniera craniovertebrale, l'epidessia quindi alcuni di questi aspetti a mio avviso necessitano anche se sono più rari necessitano una certa attenzione quando decidiamo poi di fare una diagnosi di questo tipo che è una diagnosi poi squisitamente clinica e di esclusione quindi come tutte le diagnosi di esclusione ovviamente merita una certa prudenza e poi anche questo è già stato detto il stretto rapporto tra le vertigini parossistiche benigne e l'emicrania così come per altre sinome periodiche come i dolori addominali ricorrenti o come il vomito ciclico del bambino sono certamente dei precursori importanti dell'emicrania altro aspetto perché riguarda le età più successive quindi che non è un problema esclusivamente dell'adulto ma si possono osservare come vedete qui anche in età pediatrica il problema della mattina in meniere che appunto è una situazione dei bambini più grandicelli almeno da dieci anni in su e quindi questo è importante anche se ci sono casi in età più piccola ma sono casi sporadici e quindi questo aspetto volevo un attimo sottolinearlo come bisogna considerare anche la malattia di meniere come possibile problematica l'emicrania vestibolare è stato parlato ecco una forma particolare l'emicrania con aura troncoencefalica per cui l'interessamento del troncoencefalico fa sì che vi siano questi tipi di sintomatologia con la vertigine che ritroviamo qui però come giustamente sono già detto prima il coinvolgimento oculare è importante quindi la diplopia il problema dell'alterazione dell'equilibrio delegato è una componente oftalmica che va assolutamente sottolineata e considerata ecco ovviamente c'è da tenere in considerazione almeno una di queste caratteristiche secondo i criteri internazionali e l'importanza dell'aura che accompagna o segue però è un aspetto che lega poi questi fenomeni alla cefalea andiamo avanti ecco come dobbiamo comportarci di fronte ai bambini che hanno ovviamente una vertigine certamente l'anamnesi ancora una volta come sempre ci hanno insegnato ai nostri professori bisogna fare un'anamnesi dettagliata l'anamnesi in questo caso molto difficile perché stiamo parlando di un bambino c'è una componente soggettiva del paura che rischia di amplificare il fenomeno spesso il vocabolario è ancora ridotto soprattutto nei bambini piccoli e quindi ovviamente bisogna cercare di andare a fondo bisogna evidenziare ecco questi aspetti che sono riportati qui vedete di nuovo l'articolo di Ian in cui dobbiamo capire il tipo di vertigine la durata i fattori che possono essere scatenanti e sintomi aggiuntivi alla vertigine che poi permettono l'inquadramento nosografico più preciso l'anamnesi patologica remota e l'anamnesi familiare ovviamente completano questo percorso e poi ancora ci può essere utile la durata del sintomo quindi aspetti pratici di nuovo perché certamente alcune forme vedete a seconda della durata possono essere più probabili alcune forme rispetto ad altri certamente ecco forme che durano ore o addirittura giorni sono situazioni diverse dall'interessamento labirintico sono situazioni spesso di tipo neurologico e a volte non ci dimentichiamo anche problematiche oltre le neoplasie che sono state giustamente citate anche problematiche di tipo autoimmunitario o deminizzante quindi questi sono aspetti da tenere in considerazione ecco l'esame obiettivo e qui ovviamente l'importanza quindi di una valutazione neurologica combinata con la valutazione audiologica, vestibologica e come sarò già detto oftalmologica ecco la valutazione vestibolare non entro qui nel merito perché sono in terra di specialisti quindi io sono un ospite e non posso che riconoscere la mia ignoranza su questo ma tutti questi test questa valutazione testistica che ovviamente cambia a seconda ovviamente dell'età del bambino ecco perché ovviamente quando noi abbiamo un interessamento vestibolare possiamo avere perché c'è un'alterazione delle afferenze proprio oggettive perché c'è un'alterazione delle afferenze labirintiche o della struttura centrale di tipo di controllo e quindi il tipo di valutazione deve essere raccontato di questo tipo di lesioni che noi dobbiamo andare a cercare ecco questo è un altro degli articoli che mi serviva per rispondere sì alla domanda che mi aveva chiesto il professor Neri cioè se abbiamo bisogno del vestibologo la risposta è sì perché il sistema vestibolare è normale nel 36% dei bambini e nel 39% dei adolescenti quindi nell'altro gruppo cioè nel 64% e 61% l'interessamento vestibolare è presente quando c'è vertigine quindi bisogna sempre ricorrere a una votazione vestibologica allora qui mi fermo un attimo sulla rassegna della letteratura e volevo portare l'esperienza nostra nel senso che qualche anno fa abbiamo fatto uno studio sospettivo multicentrico nell'ambito di questo gruppo di studio questa commissione urgente emergenza che io così ho coordinato e abbiamo coinvolto questi ospedali italiani queste cliniche per vedere la frequenza le caratteristiche della sindrome vertiginosa e quindi volevo riportarvi un po' i dati di questo rapido diciamo escursus per avere un'idea dell'impatto assistenziale del problema ecco vedete l'accesso ai dipartimenti di emergenza tra il gennaio 2009 e il 2016 è uno studio di limitata impatto scientifico perché è retrospettivo però ci può dare un'idea ecco che cosa abbiamo visto abbiamo visto che in realtà prendendo l'esperienza nostra cioè dell'Aquila e del Meier con cui siamo partiti per primi abbiamo avuto 69 eccessi per vertigine acuta in questi due in due in due in due diciamo così strutture per avere un'idea una media di 7.2 anni quindi un'età abbastanza elevata con una prevalenza del sesso maschile ecco questa è un po' la modalità di accesso sempre al pronto soccorso perché all'Aquila abbiamo il pronto soccorso superiore quindi quasi tutti venivano direttamente per accesso diretto vedete il triage che veniva fatto in questi due pronto soccorso nel Meier e all'Aquila vedete complessivamente codice verde e codice giallo c'è stato anche qualche codice rosso questo è importante vedremo poi perché e questa è la distribuzione per eziologia e quindi questo mi sembrava interessante portarlo alla vostra attenzione vedete siamo a tassia cerebrale acuta cerebellite epilessia abuso questo è un altro aspetto importante abuso intossicazione quanto mai importante in pediatria quanto mai importante in una società purtroppo così complessa e disturbata passatemi il termine come quella in cui viviamo oggi neuriti vestibolari emicrania oftalmoplegica emiplegica labirintiti disturbo di conversione anche questo è un aspetto la conversione neuropsichiatrico infantile di cui il professor Ballottini poi potrà aggiungere qualcosa eventualmente ecco stiamo andando a vedere i sintomi associati ovviamente avevamo dei sintomi associati nausea cefalea febbre qualche caso convulsioni disturbi visivi tornano vedete torcicollo e quindi degli aspetti anche questo che dobbiamo ricordarci quali aspetti che possono arrivare e a volte arrivano per questi aspetti associati e dopo c'è anche la vertigine andiamo avanti rapidamente se no diventa noioso ecco questi sono dal punto di vista dell'obiettività quello che si trovava a volte l'ipotonia a volte il nistarmo il romberg i tremori ecco disartria disturbi sensoriali vedete quindi c'è una varietà interessante di sintomi associati alle vertigini sono state fatte le loro immagini sì sono state fatte le loro immagini non in tutti ovviamente in 30 pazienti quindi in una percentuale molto alta e in 10 casi è stata trovata una massa in fossa cranica posteriore questo è importante per una cisteracomedia una frattura dell'osso temporale ecco sono stati fatti esami ematologici esami tossicologici l'esame del liquore nel 10% dei casi e scrini metabolico in un caso andiamo velocemente questi sono aspetti giusto per completezza forse l'aspetto interessante ecco le consulenze che sono state fatte ovviamente vedete la consulenza di Torino è molto rilevante e questo è a mio avviso un altro punto importante che volevo in qualche maniera sottolineare prima di chiudere la mia chiacchierata l'aspetto della qualità di vita allora la vertigine spesso non è un episodio isolato ma è qualcosa che ricorre nel tempo e allora giustamente questi colleghi questo è un articolo molto recente vanno a sottolineare come nell'ambito di quella che è la valutazione e l'assistenza a un bambino dobbiamo considerare la qualità di vita la misurazione della qualità di vita voi sapete che oggi è un elemento molto importante che in tanti studi viene fatto e viene portato avanti e quindi direi che anche nel discorso vertigini soffermarci sulla qualità di vita dei pazienti che ne soffrono sia un aspetto da ricordare e con questo ho concluso questa ultima diapositiva in cui ovviamente riconfermo quanto già detto dai colleghi cioè l'approccio multidisciplinare pediatra ho messo in rosso sottolineato giustamente vestibologo e poi l'audiologo e il neurologo l'oculista perché certamente le patologie da considerare i sintomi associati da considerare direi la comorbidità che spesso osserviamo in ambito di vertigini sono tanto numerose che dobbiamo non assolutamente dimenticare nessuna di queste figure professionali per poter avere un approccio realmente completo al nostro paziente grazie per l'attenzione bene ringraziamo il professor Verrotti per questa bellissima relazione alcuni argomenti potranno essere ulteriormente approfonditi in serie di discussione